uscendo da lavoro la ferrari la ferrari uscendo da lavoro ho letto una notizia io pensavo che era ironica che alexandro abbia infortunato chiese in allenamento invece no mamma d'alexandro c'è mano veramente ma alexandro già poi dici che allegri mi fa girare con gli occhi che la colpa è sua che gli ha fatto raggiungere le presenze e utriva ancora sopi di palla questo qua c'è ma questo fa più danni della grandine fa questo fa più danni della grandine cioè noi già sappiamo problemi di infortuni già chiesa si mantiene chi sta bella la rotta che mezza quindi noi andiamo a giocare contro napoli atalanta senza meccani senza rapido senza chiesa ma non ci apprezziamo con l'inter 23 stile è partito c'è una cosa assurda veramente il murto d'alexandro sei da roba che mezza chiesa cioè io non ci credo e da roba che mezza ragazzi mamma mia comunque va bene andiamo avanti passeremo anche questo speriamo nulla di grave ma leggere che sei infortunato in uno scontro di gioco c'è se che teniamo ditemi la vostra nei commenti ti voglio bene